Buondi! Siccome in giro c'è il coronavirus ed è meglio stare in casa Non è vero che non ho amici E si possono fare un sacco di cose che uno di solito non fa Per esempio, leggere Fare esercizi Ho anche scaricato questa applicazione perchè voglio gli addominali Non li ho mai avuti e voglio averli I miss Jumming jacks Addominali Torsione russo Granocchio caudal 5 Sollevamento gambe Un monte per glutei Congratulazioni Ok Che noia il sabato sera O si potrebbe anche giocare con il lego Eccola Ecco la mia versione della spremuta Si parte con affettare A metà Due belle arance e ciccione Dopo averle affettate Si passa allo spremere Ora versare la spremuta dentro un bicchiere di vetro Ora si fanno le decorazioni E voilà! Ok Io credo che abbiate visto il video più inutile che abbia mai fatto E basta Quindi sono contento di avervi fatto perdere dei minuti preziosi della vostra vita Buonanotte Ciao signor